Buongiorno amici, oggi nuova entusiasmante giornata qui a Nuova York Vogliamo raggiungere il sud della città e vederlo definitivamente Per fortuna la carta valida una settimana ancora funziona E da domani ci arrangeremo mettendoci credito sopra E adesso rimaniamo in attesa del treno per downtown Siamo usciti dalla metro e siamo sbucati all'incrocio tra Lafayette e Broadway Perché ho visto le storie di Chiara Ferragni su Instagram E ho visto che sta agli headquarters di Instagram Io non sapevo che esistessero quindi sono molto curioso E voglio andare a vedere se è possibile visitarli Se ci fanno entrare Io non sono positivo riguardo a questa esperienza Dai ma magari ci fanno entrare, ci fanno visitare gli studi Come non detto sono uffici ma sono uffici Sono uffici di lavorare Sono uffici di lavorare proprio, non ci si può accedere O meglio puoi accedere se c'è qualcuno all'interno che ti fa accedere Ma noi non abbiamo nessuno all'interno purtroppo Abbiamo capito che se ci riesce Chiara Ferragni ci riesco anch'io Forse non funziona E siamo finalmente arrivati a Little Italy Però al mai di Little Italy c'è ben poco Perché è stata affagocitata praticamente tutta da Chinatown Quindi è rimasto poco e niente Una via è rimasta Una via, si è la via principale E' quella che vi faremo vedere Più che il quartiere italiano E' il quartiere dei cliché italiani diciamo Abbiamo appena visto due Perché siete come Robert De Niro davanti all'isturante Però insomma non c'è nulla di troppo interessante E di troppo veramente italiano Non ci aspettavamo nulla dai Comunque alla fine Little Italy è un mercatino qualunque che vende roba qualunque Semplicemente ci sono i nomi dei ristoranti scritti in italiano Però non è una cosa da vedere assolutamente ecco New York è veramente stupenda Ma lo è ancora di più Con questi occhiali Che sono occhiali tense E il codice sconto del 15% è Il signor Franz Trovate tutto in descrizione Che bella New York Che bello c'è i wasabi Abbiamo preso un nigiri al salmone Però in realtà stiamo cercando Shake Shack Limonata Limonata alla fragola e menta Le patatine mi sembrano le pat bon Non so se ve le ricordate Sono buone Mentre il panino è un double qualcosa Ed è molto buono Stupendo Veramente stupendo Siamo completamente tramortiti Comincio a pensare che l'energia che questo cibo ci dà È molto meno dell'energia che questo cibo ci toglie Magari sarebbe un cibo dimagrante Invece l'energia che ci dà c'è la damma È tutta concentrale nel codice In grasso Ok Comunque stiamo andando verso il ponte di Brooklyn Oggi fa veramente caldissimo ragazzi Comunque siamo giunti sul ponte di Brooklyn Che si chiama così Perché collega Manhattan a Brooklyn Che è stato qua Mentre quello alla nostra sinistra È il ponte di Manhattan Che si chiama così Perché connette Manhattan a Brooklyn Vi consiglio di venire qui sul ponte di Brooklyn All'alba Perché non c'è nessuno Adesso oltre a fare un po' schifo la luce C'è veramente una cacciara in mane E quindi neanche puoi farti le foto Io nel frattempo ragazzi Sto raggiungendo il limite delle mie forze È passata un'ora È il caso che ci alziamo Andiamocene verso So Marcello Che ci aspettano Ci aspettano Ci aspettano Perché in realtà noi a New York Stiamo incontrando un sacco di persone Ed è bello andare all'estero E incontrare persone che ti conoscono Oh attenzione che qua ci uccidono Adesso ci aspetta Carolina a So Noi stiamo dicendo Andiamo a So che non l'abbiamo vista Ma magari siamo passati 60 volte a So Secondo me l'abbiamo vista Secondo me l'abbiamo vista Fondamentalmente abbiamo visto tutto Nel senso che passiamo e ripassiamo 100 volte negli stessi posti Non è tanto la zona Ma sono tanti quei shops Esatto I spots Quei interest points Come non detto Carolina ci ha dato una sola E quindi capiamo cosa fare Vorremmo andare ad Highline Che è un parco sopraelevato C'è anche da dire che siamo stanchi morti ragazzi Marcello si è preso una ciambella Io mi sono rifiutato Perché le mangio tutte le mattine E mi sto veramente danneggiando Ah eccola Carolina Non è una sola Ciao Ciao Piacere Carolina Avete aspettato tanto? Siamo arrivati sulla Highline Che è questa sopraelevata Dove anticamente passava il treno E adesso hanno costruito questo parco Ed è un po' quello che vorrebbero fare a Roma Con la tangenziale Però non credo che succederà mai Carolina ci ha portato al Chelsea Market Siamo saliti al quinto piano Dove ci sono gli uffici di YouTube Credevamo che la situazione fosse come quella di Instagram Ovvero che ci sbattessero fuori malamente Invece Qua c'è la Google Inness C'è la Google Inness Sono tutti carini sorridenti Ci hanno detto ragazzi Ma che bello venite dall'Italia Insomma Non potevamo visitare oggi direttamente gli studi Ma ci hanno detto che ci contatteranno Per poter venire In realtà noi già avevamo preso appuntamento Però non era un appuntamento Insomma Avevamo parlato di una certa vanessa Per poter venire Ma poi non ci ha più ricontattato E quindi oggi abbiamo dovuto fare una cosa un po' di forza Un atto di forza Però vabbè Speriamo che ci contatti dentro domani Così magari riusciamo a farci un giretto dentro gli studi Stiamo andando al Rockefeller Center A vedere l'albero di Natale Perché alle 7 accendono l'albero di Natale Credo che abbiano avuto la stessa idea Il 99% dei cittadini new yorkesi E dei turisti Perché c'è veramente il delirio Però stiamo qua Che fai non ci vai Aiuto la gente Vabbè La situazione è questa Ci sono tipo 15 km di fila Quindi forse Desistiamo Ma quanto è bello incontrare gente a New York Che ti conosce E come promesso Vi ho portato a Times Square di sera Ebbè Andiamo alla Andiamo a stare a stare Ebbè figo Ebbè figo Ebbè figo Ebbè figo Tutti i 20 km a piedi Però stiamo andando ad un mercatino di Natale Ciao 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 Abbiamo salutato i nostri nuovi amici Adesso ci incamminiamo verso il cibo Prima che ci si sgretolino i miei piedi Perché veramente io non ho più la forza Siamo arrivati la Chipotle Non lo so Però andrei a prendere qualcosa da bere Qualcosa di sbagliato Come piace a me Credo proprio che prenderò questa che non conosco È la prima volta che mangio un burrito qui Vediamo di che si tratta A parte come si approccia Guarda la mia una È una sfera Più di solito lo mordo sopra E poi scapo con la una forchetta Ma non fa affatto di col cornetto algella Che buchi sotto il succhi Perché sta su off e continua a sparare aria E niente ragazzi Non si spegne Vabbè Noi siamo tornati in ostello Ci siamo fatti una doccia E devo dire che è stata Rigenerante Nonostante la schiena continui a farmi molto male Comunque in questa vacanza Ho imparato ad usare le infradito Nella mia vita non sono mai riuscito Ad indossare un paio di infradito Stavolta l'ostello ce l'ha date gratis Ce l'ha fornite per farci la doccia E io mi sono trovato costretto ad indossarle E le ho indossate con gioia Riesco a portare le infradito E voglio gridarlo al mondo intero Ma soprattutto voglio gridare al mondo intero Il fatto che io quando sono a Roma Se non uso il mio sapone col pH controllato Mi si spacca la pelle Adesso sto usando per lavarmi la faccia Il sapone dei piatti praticamente Perché è il sapone quello del distributore Quello che fa schiuma Quello già schiumato E sono liscio come una pesca Quindi il problema non è l'acqua Non è il pH È che quando sto a casa Sono nervoso E la nervosia si ripercuote sulla tua pelle E quindi ragazzi Non investite i vostri soldi nei saponi Investite i vostri soldi Contro la nervosia Vabbè nervosia a parte Noi domani abbiamo un appuntamento alle 9 Andiamo a pattinare sul ghiaccio Marcello è la prima volta che pattini sul ghiaccio Marcello Ti sento scusami È la prima volta che pattini sul ghiaccio No non è la prima volta Però Non ti aspetti niente Non c'è un però Tutto al posto Allora buonanotte Sarà bellissimo E questo è il ristorante dove andiamo oggi Ma di cosa stiamo parlando? Ragazzi abbiamo vado una pizza gigantesca Ciao camera 111 Capiamo di che si tratta Sono arrivato al terminal 1 Ovviamente Marcello non ha fatto in tempo a prendere il treno Grazie a tutti